Al via con la tradizionale cerimonia di stappo della prima botte, l'Octoberfest di Monaco, il più grande festival della birra al mondo. Ogni anno sono circa 6 milioni visitatori, anche dall'estero, che partecipano alla festa. Le origini dell'Octoberfest risalgono al 1810, quando in occasione del matrimonio tra il principe Ludwig e la principessa Therese si tenne una corsa di cavalli. Da allora il festival è cresciuto fino a diventare un appuntamento internazionale, a cui molti non rinunciano. La 185esima edizione si chiuderà il 7 ottobre.